più vero del vero in una grigia mattina di novembre percorrevo frettolosamente lungo senna nella fredda querugiola che bagnava l'atmosfera si incrociavano le ombre nere dei passanti nascosti da ombrelli di forme svariate la senna limacciosa trascinava battelli simili a enormi maggiolini sui ponti il vento sferzava all'improvviso i cappelli dei passanti e questi li contendevano allo spazio con gli atteggiamenti e le contorsioni il cui spettacolo è sempre penoso allo sguardo dell'artista le mie idee erano incerte e nebbiose il pensiero di un appuntamento d'affari accettato il giorno precedente mi assillava l'ora incalzava decisi di ripararmi sotto l'atrio di un portone da dove mi sarebbe stato più agevole chiamare un fiacra in quell'istante scorsi proprio di fianco a me l'ingresso di un edificio quadrato d'aspetto borghese era assorto nella nebbia come un'apparizione di pietra che a dispetto dell'architettura rigida del vapore tetro e fantastico che lo avviluppava gli riconobbi immediatamente una certa aria di ospitalità cordiale che mi rasserenò lo spirito senza dubbio mi dissi chi abita questa dimora è di costumi sedentari la soglia invita a fermarsi e la porta non è forse aperta e con la maggior cortesia con l'aria soddisfatta il cappello in mano meditando un madrigale per la padrona di casa entrai sorridendo e mi trovai di fronte una sorta di sala con il tetto a vetri dal quale la luce del giorno filtrava livida ad alcune colonne erano appesi abiti sciarpe cappelli tavole di marmo erano disposte ovunque le gambe allungate il caporetto gli occhi fissi e l'aria assorta alcuni individui sembravano meditare i loro sguardi erano vuoti di pensiero i volti avevano il colore del tempo vi erano portafogli aperti giornali spiegati accanto a ognuno di loro e compresi che la padrona di casa sulla cui gentile accoglienza avevo fatto conto non era altri che la morte certo per sfuggire alle preoccupazioni dell'esistenza e ai suoi fastidi la maggior parte di coloro che occupavano la sala avevano ucciso il proprio corpo sperando in un maggior benessere mentre ascoltavo il fruscio dei rubinetti di rame murati alle pareti per innaffiare ogni giorno quei resti mortali senti le ruote di un fiacre si fermò davanti all'edificio riflettei che chi aveva appuntamento con me mi aspettava e mi voltai per cogliere l'occasione che mi si offriva il fiacre aveva in realtà scaricato davanti alla porta con le gialli in festa che dovevano vedere la morte per credervi fermai il fiacre deserto e dissi al cocchiere passaggio dell'operà in seguito sul boulevard il tempo mi sembra farsi più coperto l'orizzonte svanire e gli arbusti scheletri vegetali parevano indicare vagamente con la punta dei rami neri i pedoni alle guardie municipali ancora insonnolite il fiacre affrettava il cammino attraverso il vetro i passanti mi apparivano come acqua che scorre arrivato a destinazione balzai sul marciapiede e mi avviai nel passaggio in compro di passanti preoccupati all'altro capo scorsi proprio di fronte a me l'ingresso di un caffè oggi distrutto da un famoso incendio poiché la vita è un sogno relegato in fondo a una sorta di anger sotto una volta quadrata di aspetto tetro le gocce di pioggia che cadevano sulla parte alta del vetro oscuravano ancora di più la luce del sole era là che mi attendevano pensai e bicchiare in mano l'occhio brillante e sfidando il destino i miei uomini d'affari girai dunque la maniglia della porta e mi trovai subito in una sala dove la luce cadeva dall'alto attraverso il vetro livida ad alcune colonne erano appesi abiti sciarpe cappelli tavole di marmo erano disposte ovunque le gambe allungate il capo eretto gli occhi fissi e l'aria assorta alcuni individui sembravano meditare e i volti avevano il colore del tempo gli sguardi erano vuoti di pensiero vi erano portafogli aperti giornali spiegati accanto ad ognuno di loro scrutai quegli uomini certo per sfuggire all'ossessione insopportabile della coscienza la maggior parte di coloro che occupavano la sala aveva da molto tempo assassinato la propria anima sperando in un maggiore benessere mentre ascoltavo il fruscio dei rubinetti di rame murati alle pareti per innaffiare ogni giorno coi resti mortali mi tornò alle memorie il rumore delle ruote del fiac senza dubbio mi dissi il cocchiere deve essere stato colpito da una sorta di ebetismo per avermi riportato dopo tanto girare semplicemente al punto di partenza tuttavia lo confesso se vi è stato errore il secondo colpo d'occhio è più sinistro del primo richiusi dunque in silenzio la porta vetrata e tornai a casa risoluto qualsiasi cosa possa accadermi a non occuparmi mai più di affari l'abbiamo 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 l'abbiamo